Sindaco, è arrivato il momento, la lista civica per Antonelli Sindaco scende in campo, siamo pronti anche noi per la competizione? Sì, è proprio il caso di dirlo, scendiamo in campo, siamo qua per presentare la capolista, la numero uno della lista civica per Antonelli Sindaco, prima di far capire chi è, ma se non sbaglio, qualche suggerimento lo stiamo dando, volevo ringraziarla, ringraziarla di cuore per mettersi a disposizione della città. Io sono d'accordo con te Sindaco e come referente sono contentissimo di presentare la nostra capolista, per voi Patrizia, la nostra capolista, a te Patrizia. Allora, sono qui a disposizione un'altra volta per la mia città, dopo il campo sportivo su cui sono in gioco da anni, voglio dare la mia disponibilità alla città, anche per affiancare il nostro sindaco attuale, Emanuele Antonelli, che conosco da anni e che col suo operato datato non ha usato la politica per interessi personali, ma per il bene della città. E quando io vedo questi elementi fondamentali in quella che è la mia educazione, la mia etica, è ovvio che mi sono offerta a lui per affiancarlo in questa competizione che saranno le prossime elezioni elettorali. Quindi a disposizione della città, di Emanuele Antonelli e del far bene senza esibizionismo, ma con radicato quello che è l'interesse per la propria città e per le proprie origini, per i beni di tutti ovviamente, non per ruoli personali. Grazie.